Questo fenomeno del coronavirus e tutti i provvedimenti che sono stati presi hanno avuto come effetto immediato una riduzione dell'inquinamento da polvere. Una riduzione che si può stimare intorno al 25-35% su tutto il territorio regionale, che ricade a cavallo della settimana in cui, per l'ordinanza emessa dalla Regione Marche, fino al 29 febbraio le scuole sono rimaste chiuse, così come i musei, i teatri, i cinema e le manifestazioni pubbliche sono state sospese. Complice quindi un minor traffico, il fatto che le persone hanno preferito restare in casa o comunque non spostarsi per lunghi tragitti per paura del contagio, si è registrato un calo dell'inquinamento nella Regione. Ma il merito, se così si può dire, in realtà non è solo del coronavirus. A diminuire le concentrazioni di sostanze inquinanti hanno contribuito anche le piogge degli ultimi giorni, facendo segnare nel mese di febbraio valori migliori rispetto ai dati registrati a gennaio, dove le precipitazioni sono state quasi assenti e le temperature hanno segnato picchi oltre le medie stagionali. Se piove in modo abbastanza consistente, sicuramente c'è un forte abbattimento della concentrazione di polvere in aria. L'altro elemento, però molto importante, è la presenza di condizioni meteorologiche, temperatura e vento, che possono contribuire anche loro in modo significativo alla riduzione delle concentrazioni. A noi le piogge e le condizioni meteorologiche ci insegnano a capire quali sono le zone critiche per l'inquinamento, e le zone meno critiche, e quindi a supportare l'analisi di interventi, provvedimenti e valutazioni in modo più adatto e più scientifico.